Ehi tu guardiano, perché ti disperi? Beh sai, adoro Destiny, ma tra il lavoro e gli impegni di tutti i giorni riesco a fare solo qualche partita ogni tanto. Mi piacerebbe tanto riuscire ad arrivare al faro a completare un ride con i miei amici. E che problema c'è? Rivolgiti a Blazing Boost! Blazing Boost offre servizi di recovery da ormai 8 anni utilizzando metodi rapidi e sicuri. Dal link in descrizione puoi accedere alla lista completa di tutti i servizi, dal farm di un'arma al completamento di un ride o anche solo per salire di qualche punto in competitiva. Che aspetti? Chiedi a Blazing Boost! Io so cosa state pensando. È possibile che questo crogiolo sia dominato dalle solite tre armi, dal triangolo Suros Regimen, Famer Urgente e l'Evocatore? Bene, oggi vi darò una risposta rivoluzionaria. No! Oggi signori sono qui per presentarvi la quarta arma che trasformerà questo triangolo in un quadrato. Sto parlando di un'arma che non abbiamo mai visto, di un'arma innovativa, di un'arma nuova. Il verso il dovere. Verso il dovere automatico vecchissimo che inizialmente si droppava solamente da Callanotte di Savatun e che adesso grazie alla quest Esodo ci è stato regalato. Ovviamente nemmeno dirlo per far sì che questo automatico possa rientrare nella cerchia e ristretto degli automatici del crogiolo deve assolutamente essere un 600 colpi al minuto. Per quanto riguarda i perk abbiamo una scelta tra Momento Zen e Furia. Furia, come già sappiamo, ci dà un boost incredibile del danno ogni volta che killiamo, ma utilizzeremo Momento Zen. Ora, la domanda che io mi faccio è per quale motivo nessuno utilizza quest'arma? I'm back! Addio Evocatore, cioè... Cioè ragazzi, allora, io veramente non so per quale motivo la gente non utilizza quest'arma. È qualcosa di abissale quando ci prendiamo, quando colpiamo, sì, è veramente forte. Prima non molto, effettivamente, ma penso che sia effettivamente un limite dell'arma. Perché stai a perdere? E anche il fame ruggente è andato. Ci manca solamente il Zuros. Ok, scherzavo. Niente, il Zuros ancora, ancora no, ancora no. Deve ancora prendere un attimino la mano per arrivare anche all'altezza del Zuros. Ma non vi preoccupate che ci arriveremo entro fine degli video. Eravamo lì, c'eravamo, 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 eravamo quasi all'altezza del Zuros. Che poi, in generale, comunque, è un automatico che non ha nemmeno delle statistiche chissà quanto speciali. Perché non ha una gittata altissima. Ci sta, vedete, già da queste distanze inizia un attimino ad avere un po' di difficoltà contro un'arbalessa particolarmente. Però, vedete, con Momento Zen non ci lecchiamo un colpo. Assolutamente, Momento Zen tutta la vita migliore di furia. Orca miseria. Fuggi. Cosa sta facendo quello? Do you remember me? Porca miseria. Oh no! Oh no, era lui! E comunque, raga, cioè, è un'arma da Dio. Io non... Veramente. Ora, mi spiegate, voi nei commenti. Mi date ognuno la sua giustificazione del perché non avete mai utilizzato quest'arma nella vostra esistenza. Dov'era? E addio Donor Uriel. E addio Sidarm. Con Momento Zen è veramente difficile andare a failare i colpi. Cioè, vi vanno tutti quanti automaticamente in testa. Basta che non state magari appiccicati o troppo distanziati. E veramente i colpi entrano da soli. Amen? Vai, evocatore, no? Vai, evocatore, no? E' zitto evocatore! E' zitto evocatore! Oh! E' zitta Arbalesta! E' zitti tutti! No! E' zitto Donor Uriel. In più ho dovuto anche scegliere tra i due mirini. Perché l'arma ha due mirini a zoom ridotto. Solo che uno è un mirino fisico, un mirino con, diciamo, una cornice. L'altro è questo. Che sarebbe praticamente il mirino del... Del Redrix. Per chi l'avesse riconosciuto. Era lui. E devo dire che l'altro mirino dà un minimo in più di gittata. Però con questo veramente mi trovo da Dio. Crepa, 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 crepa. No! Oh! Non muore. Non muore. Ah, beh. Oh no, ok. Realmente, come al solito, fatemi sapere nei commenti se avete provato l'arma. Se vi piace, se... Non so. Avete scoperto questo prodigio prima di tutti. Vai, su Rossman. Ecco, poi arriva lui. Non demordiamo. Porco, demordiamo, demordiamo. Io sono fortissimo. Ecco, l'unico forse difetto... Dov'è il razzo? Dov'è il razzo? No. Forse appunto, dicevo, l'unico difetto che ha quest'arma è... È quello di avere un po' poca gittata. Rispetto magari ad un Suros o all'Evocadoro soprattutto. Che hanno molta gittata. Questa ne ha un pochino di meno. Però... Capito, no? Capito, no? Ah, scemo fangoso col tuo. Qui c'è un sacco di gente. Io farò la super e sarà la settima colonna. Ok. Eccolo, eccolo, Arcomen. Ah, Arcomen della minchia. E ora riprendere quel razzo. Ok. Eh, vabbè, però ha un vizio qua. Eh, vabbè, ma cioè... Avrò beccato 12 super nel giro di 3 secondi. Non lo so. Cioè, avevano il martello. Ho beccato il martello. Lei la mette. Il bastone. Le evoca tempeste. Penso che le hanno finite. Poi perché? Qualcuno muore? Gentilissimo. No, ho finito i colpi, ciao. Quindi ragazzi, questa è l'arma. Secondo me è una delle migliori armi che c'è al momento in gioco. Veramente potrebbe aggiungersi al trio su Ross Regimen Evocatore e Fameruggente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se l'utilizzate anche voi. Se vi piace. Se pensate che sia, non lo so, una cosa completamente inutile. Che non c'entra niente con il meta che c'è attualmente. Detto questo, io direi che se il video è piaciuto c'è il like, commentate e condividetelo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati i suoi video in uscita. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.